Mi chiamo Samuel, ho 30 anni. Dalla morte dei miei genitori e dei miei zii, ho deciso di far trasferire mia nonna a casa mia, in Florida. Tu hai ucciso qualcuno? Ho caricato le cose essenziali nell'auto e poi ho detto alla nonna Dobbiamo andare via, non torneremo mai più qui. La prima cosa che cercheranno sarà proprio la vostra auto. Poi risaliranno ai vostri spostamenti grazie ai pagamenti con la carta di credito e all'utilizzo dei documenti. Parlano tutti di Tenson, il misterioso ragazzo con la nonna. Tua nonna è in realtà una criminale da proteggere e tu sei in qualche modo legato con il cartello. Salve a tutti amici, quello che avete appena visto è il trailer della nonna, il viaggio. Chi mi segue sugli altri social, ovvero TikTok, Instagram e Telegram, aveva probabilmente già visto un teaser e sapeva già che sarebbe uscita presto. Ebbene, dal primo febbraio 2021 andrà in onda la miniserie di sei puntate, La nonna, il viaggio. Le puntate copriranno praticamente tutta la settimana. Lunedì andrà in onda la prima, martedì la seconda e così via fino all'ultima. Ma i sostenitori del mio canale potranno vedere l'intera serie completa già da stasera. Come ho detto nel mio precedente video, questa volta ho intenzione di allargare la platea di chi potrà beneficiare dell'anteprima. Infatti non sarà solo per tutti i miei sostenitori su Tipeee, che ringrazio veramente tanto, ma anche per i miei abbonati Twitch, che riceveranno una mail con tutte le puntate. Sappiate che è anche possibile abbonarsi al mio canale Twitch senza spendere nulla se si ha l'abbonamento ad Amazon Prime. Se volete sostenere gratuitamente il mio canale e allo stesso tempo avere l'anteprima di questa miniserie, guardate il mio precedente video come supportarmi gratuitamente, dove mostro anche fisicamente come funziona l'abbonamento in caso voi abbiate Amazon Prime come dovete cliccare, dove dovete cliccare per non spendere nulla. Ne approfitto per chiedervi di seguirmi anche su tutti gli altri miei social, sia per ricevere info, curiosità e aggiornamenti su quando faccio live, non solo qui ma anche su Instagram e sul canale Twitch, dove porto molti gameplay. In descrizione trovate tutti i link, incluso il mio profilo TikTok. Un saluto a tutti e fate attenzione alla nonna. Grazie a tutti.